La storia di una famiglia, la passione per la sartoria, fin dal secondo dopoguerra, hanno dato vita alla maglieria Scartozzone Riccardo e figli SNC, con produzione e spaccio outlet a San Zeno di Colognola e Colli di Verona. Una produzione di maglieria uomo e donna che si contraddistingue per i filati dall'eccellenza tutta italiana, tagli dalla linea casual e classica per uno stile comodo per ogni occasione. Tessuti misto lana e cotone, pura lana e misto cashmere, cotoni e viscose, per giacche, pull, polo, gilet, pullover, sciarpe e cappelli, realizzati grazie alla professionalità e competenza di decenni di esperienza della famiglia Scartozzoni. E presso l'outlet non solo la maglieria Scartozzoni, ma anche capi di maglieria delle migliori marche. L'outlet è a disposizione della clientela dal lunedì al venerdì e sabato mattina a San Zeno di Colognola e Colli, Verona.